Gentili telespettatori, buona giornata. Meloni come Berlusconi spinge sulla leva del partito comunista, i famosi comunisti di Berlusconi, vi ricordate che lui scese in campo per contrastare i comunisti, che poi era vero, l'egemonia della sinistra in Italia. La Meloni dice così le idee fanno paura, ho visto che il partito comunista esiste ancora, tanto per capire dove stanno i nostalgici dei totalitarismi che ha presentato un esposto sulle autorizzazioni a questa manifestazione. Cercano sempre di tapparci la bocca, così potranno continuare a raccontare le menzogne. Fatevene una ragione, non è possibile impedirci di parlare di politica, dice Giorgia Meloni proprio nella conferenza a Pescara. Pensate che quindi, come dice la Meloni, dei comunisti hanno presentato in questura una specie di denuncia per impedire alla Meloni di fare la sua convention di Fratelli d'Italia? Il solo pensare di andare a fare una denuncia per impedire alla Meloni di parlare. Ma anche chi fa questa denuncia, ma cosa gli passa per la testa? Vai a denunciare per impedire a una persona di parlare, ma con quale motivazione? Ma con quale motivazione? non ha senso questa cosa, è completamente illogica. La Meloni parla del partito comunista che esiste ancora. In realtà più che partito comunista è proprio una sinistra ideologica, rancorosa, livorosa, invidiosa, sempliciotta, superficiale, intollerante, intransigente. Una sinistra che cerca di impedire agli altri di parlare, di presentare un libro, di esporre le proprie idee. Vannacci non può parlare, non può scrivere un libro, per esempio. Valditara non può presentare un libro, l'altra, la roccella, non può presentare un libro. E allora fanno di tutto per tentare di reprimere la libertà di espressione in Italia. Infatti quando la Meloni dice le idee fanno paura, ho visto che il partito comunista esiste ancora, tanto per capire dove stanno i nostalgici dei totalitarismi. In effetti oggi chi ragiona in modo totalitario, chi ragiona sotto dei canoni dittatoriali, non è il centrodestra. La Rai, Tele Meloni, è una legge dello Stato, fatevene una ragione, la famosa Tele Meloni è legalizzata da una legge fatta proprio dal PD nel 2015 che con quella legge voleva legalizzare il loro possesso della Rai, praticamente la Rai era diventata della sinistra. Ecco, questo è il punto che davvero i nostalgici delle dittature non stanno a destra, ma stanno da un'altra parte e gli atteggiamenti li abbiamo proprio visti. Vanno nelle piazze, prendono a calci la polizia, sputano alla polizia, tentano di sfondare i posti di blocco, bruciano le foto della Meloni, del governo, slogan, cantano insulti contro il governo, hanno tentato di fare irruzione in un commissariato di polizia per liberare due arrestati, diciamo che poi sono dalla parte di quelli che imbrattano i monumenti, sono dalla parte di quelli che fanno i rave abusivi, parlano male dell'Italia in Europa e con gli altri capi di Stato e con altri politici europei o di altre parti del mondo, quindi sono anti-italiani, hanno un atteggiamento da nostalgici di qualche totalitarismo di sinistra, non amano il dialogo, non parlano, non si confrontano, con loro non ci parliamo perché loro sono quelli cattivi, loro sono quelli sbagliati, quelli che hanno sempre torto, con loro non si parla neanche e poi si arriva a loro non devono neanche parlare, pertanto quando si parla di nostalgici dei totalitarismi, delle dittature sappiamo esattamente da che parte girarsi a guardare chi c'è, ecco quindi fa anche un po' ridere quando quelli di sinistra gridano alla dittatura ma non sanno che stanno gridando verso degli specchi e negli specchi c'è la loro immagine riflessa, quindi gridano agli altri pericolo dittatura ma sono loro il pericolo della dittatura, per fortuna che c'è un centrodestra che ferma queste mire totalitarie che ha la sinistra, fosse per loro prenderebbe metà della popolazione italiana e la metterebbe in un gigantesco carcere perché per loro quelli dell'altra parte, quelli che non la pensano come loro non sono neanche da prendere in considerazione, pensate che Beppe Provenzano che era il numero due del PD nella scorsa segreteria aveva ipotizzato che Fratelli d'Italia fosse cacciato dal Parlamento perché incostituzionale, ecco nessuno nella storia della Repubblica Italiana aveva mai ipotizzato di cacciare il Movimento Sociale Italiano dal Parlamento perché ipoteticamente incostituzionale, quindi neanche nel dopoguerra nessuno aveva mai chiesto l'allontanamento del Movimento Sociale Italiano, mentre oggi abbiamo gente di questi partiti di sinistra che ipotizza l'illegalità della presenza dei partiti di centrodestra nel Parlamento, cioè loro vorrebbero un Parlamento fatto solo di partiti di sinistra, ecco i partiti di destra che poi vincono anche le elezioni bisognerebbe farli uscire dal Parlamento in modo che non possano essere votati, in modo che non possano mai vincere, che vinca sempre la sinistra, ecco quindi quando la Meloni dice, tanto per capire dove stanno i nostalgici dei totalitarismi, ormai l'abbiamo capito tutti dove stanno i nostalgici dei totalitarismi, per non parlare, a parte i nostalgici, per non parlare dei voti comprati, di quelli che prendono i profumi al beauty free, ce n'è di cose, quelli che portano i politici sotto la protezione delle sorelle dei boss, diciamo che quest'area di sinistra è peggio di quello che potevamo solo immaginare qualche tempo fa e forse c'è ancora tanto da scoprire, forse potremmo ancora stupirci con altre cose, perché il fondo l'abbiamo toccato con rubare i profumi in aeroporto, ecco, lì è proprio, abbiamo veramente toccato il fondo della politica. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie a tutti.